Fufigeters in studio da Avegrol, Cristno Voselic e Pat Smear suonano Smellikit e Inspirit. Questa è una chicca che commuoverà i nostalgici della musica passata non che fan dei miti intramontabili che hanno fatto la storia della musica. Vi avevamo detto su queste pagine che il nuovo album dei Fufigeters Vasting Light avrebbe visto la collaborazione dell'ex bassista De Nirvana Cristno Voselic. Sappiamo anche che nelle fila dei Fufigeters milita un certo Pat Smear che, per chi non lo sapesse, era la chitarra addizionale De Nirvana dal vivo, colui che ha suonato anche su quel fantastico disco che è un plugge di New York. Ebbene Dave Grohl ha recentemente dichiarato che dopo le registrazioni di Vasting Light la banda aveva un live a sorpresa in programma in un piccolo locale. Davi ha invitato Cristno Voselic a suonare insieme a Pat hanno cominciato ad eseguire Smellikit e Inspirit per la prima volta insieme dopo almeno 17 anni. Tre si sono visti in studio per provare Marigold, Bissi de Del Singolo e Art Shaped Box presente sull'album Minutero. Tra l'altro è l'unica canzone De Nirvana in cui canta Dave Grohl. Dopo aver eseguito la canzone hanno dato vita a questo piccolo revival, mi sta scendendo la lacrimuccia e mi chiedo perché Dave Grohl e Fufigeters non decidono di portarla dal vivo. Grazie a tutti.